Le vostre zone erronee, pubblicato la prima volta nel 1976, opera dello psicoterapeuta Wayne Dyer. Io intanto correggerei il titolo, le nostre zone erronee, perché in realtà riguardano tutti. Possiamo considerare questo libro come uno dei primi testi scritti sulla crescita personale, tant'è che il sottotitolo del libro recita Guida all'indipendenza dello spirito. Che cosa fa in questo libro l'autore? L'autore analizza quelle che sono le parti di noi, che non ci permettono di funzionare bene, tra virgolette, e dunque tutti quei pensieri, quegli atteggiamenti e quelle azioni che ci portano alla sofferenza. Chi va in palestra, si allena per poter potenziare il proprio corpo e la propria muscolatura, ebbene occorre fare lo stesso, secondo Dyer, anche con la mente e con il comportamento. Bisogna esercitarsi per migliorare se stessi. Questo è il punto di partenza dell'autore. Ma quali sono allora queste vostre, cioè nostre, zone erronee? Vediamone alcune, nel senso che il libro ne presenta diverse, sono molto interessanti e rappresentano la nostra quotidianità. Per questo dico, sono le nostre zone erronee, perché riguardano ciascuno di noi, a meno che non si sia raggiunta, direbbero alcuni, la buddità, il nirvana, il paradiso. Ecco, diciamo che sono delle situazioni dell'anima, della psiche, che riguardano ciascuno di noi. Ebbene, la prima zona erronea, cioè il primo, traduciamo qui così si capisce meglio, il primo sbaglio esistenziale, il primo errore tattico che commettiamo, è il legame troppo stringente e a tratti soffocante con il passato. E qui Dyer appunto parla di crescita personale. La crescita personale significa autoanalisi per comprendere a fondo quelle che sono le cose che ci limitano. Ricordiamo il sottotitolo Guida all'indipendenza dello spirito. Sei indipendente quando sei libero, ma per essere libero devi analizzare, devi studiare, devi capire, devi conoscere anche te stesso e la tua interiorità. Quindi, in primis, il legame soffocante con il passato. Facciamo un esempio. Quando diciamo io sono fatto così, riferendoci al modo in cui siamo cresciuti e al modo anche in cui siamo stati educati, alla nostra famiglia. Vediamo cosa ci dice Dyer a tal proposito. La natura umana non esiste. L'espressione serve a incasellare la gente e ad inventare scuse. Tu sei la somma delle tue scelte e ogni etichetta che conservi come un tesoro potrebbe essere riscritta in io ho scelto di essere così o così, insomma, nei vari modi. Ecco, il legame con il passato, troppo soffocante, dipende da noi, perché siamo noi che identifichiamo quel passato come determinante per il nostro presente e poi di riflesso lo sarà anche per il nostro futuro. Detto in altri termini, siamo noi che ci mettiamo in una certa condizione e non facciamo niente per migliorare. Sempre sul passato. Tutte le autoconnotazioni nascono dalla vita passata, ma il passato non è che un secchio di cenere. C'è qualcosa che non c'è, qualcosa a cui noi occidentali diamo una sostanzialità. Certo, qualcuno potrebbe dire non esiste il passato, ma esistono i suoi frutti. Ma noi non stiamo male per i frutti del passato. Noi non stiamo male perché in passato ci è successo qualcosa che ci ha fatto soffrire. Noi stiamo male perché reiteriamo il passato. Quindi aggiungiamo sofferenza di cui potremo fare a meno. Ma ancora! Tutte le autoconnotazioni autodistruttive risultano dall'uso di queste quattro frasi nevrotiche. E qua Dyer è perentorio ed è ben determinato. Questo sono io. Sono sempre stato così. Non posso farci nulla. È nella mia natura. Sono frasi che ci bloccano, ci limitano e che fanno tutte, notate bene, riferimento al passato. È nella mia natura. Cioè, tradotto, la mia storia, il mio essere, da quando ero un grembo materno, è quello. C'è sempre un riferimento alla storia. Un'altra zona erronea molto forte in noi che Dyer sottolinea sono le emozioni che lui definisce inutili. Le emozioni inutili sono, per esempio, il senso di colpa, ma anche l'inquietudine. Vediamo quali sono le definizioni che in merito ci fornisce Dyer. Partiamo dalla colpa. colpa significa che il tuo tempo presente se lo porta via la paralisi determinata da un comportamento passato, mentre inquietudine è il congegno che ti immobilizza nel presente su qualcosa che appartiene al futuro e che sovente sfugge al tuo controllo. Tutto ciò puoi comprenderlo chiaramente se cerchi di immaginarti, mentre ti senti colpevole, di un fatto che deve ancora accadere. Oppure, mentre sei inquieto, ti preoccupi di qualcosa che è già accaduto. Cioè, Dyer ci dice, e qui ci ricolleghiamo un po' al punto di prima, che noi appesantiamo moltissimo la nostra vita. La appesantiamo rimanendo bloccati nel passato e quindi rimuginiamo rimuginando, rimuginando, per quella volta ho sbagliato. Quattro anni fa ho fatto un errore gravissimo, dieci anni fa ho sbagliato, vent'anni fa ho sbagliato, quando ero bambino ho sbagliato. E questo non ci permette evidentemente di evolvere, no? Siamo bloccati in quello che abbiamo fatto. Ma, cos'è che ci ho detto prima qualche pagina fa Dyer? Che il passato non è altro che un cumulo di cenere. E poi abbiamo il legame con il futuro. L'inquietudine, senso di colpa che mira al passato, inquietudine che guarda al futuro. Noi non sappiamo come sarà la nostra vita, cosa accadrà, cosa faremo, dove saremo, cosa penseremo, con chi saremo, non sappiamo nulla. Crediamo di saperlo o tentiamo di saperlo perché in qualche modo ci dà sicurezza. L'essere umano non sa vivere nella indecisione, nell'insicurezza, nel dubbio, dunque ha bisogno di dire domani farò questo, fra un mese sarò lì, fra un anno sarò con quella persona lì, fra dieci anni avrò fatto la mia famigliola, sarò in quella casa, farò quel lavoro lì. Inquietudine, dice Dyer, perché? Ma perché non lo conosci il futuro. Il passato è passato, basta. Il futuro non lo conosci neppure. Qual è un'altra zona erronea? Cioè qual è un altro di quegli atteggiamenti che non favoriscono l'indipendenza dello spirito. Il rimandare sempre le cose che puoi fare ora in un altro momento. E il dramma di tale fatto è che poniamo al centro della nostra vita, che cosa? Un principio fisico, l'inerzia. Ma se la vita è migliorata, lo è grazie all'impegno che abbiamo messo. Nulla avviene per caso. Dyer ci spiega bene anche stavolta che cosa intende per rimandare, per procrastinare. Come funziona la procrastinazione che ci porta a soffrire. Vi sono determinate cose che tu vuoi fare. Non ti sono state imposte, le hai scelte liberamente. Molte di esse, tuttavia, non risultano mai fatte, sebbene tu ti dica che verranno fatte. La risoluzione di fare in futuro ciò che potresti fare adesso è un inaccettabile, attenzione bene, surrogato della sua attuazione, il quale ti permette di prenderti in giro da solo perché è come se ti dicessi che non ti comprometti se non fai ciò che hai deciso di fare. È molto facile. So che devo farlo, ma veramente temo che non lo farei bene, oppure che non mi piacerà farlo. Mi dico dunque che lo farò. Lo farò domani, dopo domani, fra un mese, così non devo ammettere con me stesso che non mi accingo a farlo. In tal modo mi è più facile accettarmi. Questo è il ragionamento conveniente, ancorché fallace, che puoi far entrare in gioco quando ti si prospetta una cosa sgradevole e difficile. Qui Dyer è molto, anche qui, perentorio, ma molto lucido e sottile. Cioè noi, quando rimandiamo, non fare domani quello che potresti fare oggi o ora, quello che ci hanno insegnato generazioni di genitori, nonni, bisnonni. Ecco, la procrastinazione è un inganno che noi facciamo, è molto interessante questo punto di vista, nei confronti di noi stessi. Cioè, io so che qualcosa la posso fare ora, però manda avanti la mia pigrizia, non me ne va di farla ora. Tanto la farò è un'attenuante, dice bene Dyer, cioè è un modo per non assumersi una certa responsabilità. È un modo per autoconvincersi che non si è pigri e svogliati. Perché noi non diciamo non la farò quella cosa. Noi diciamo sì, la farò ma adesso non mi va. Cioè, la farò più avanti, la farò fra una settimana, la farò fra due giorni. E in questo modo rimandiamo, prendiamo tempo, facciamo in modo di non doverci mai effettivamente impegnare in qualcosa. So benissimo che devo fare un compito per la scuola, ma se lo posso fare domani, perché lo devo fare oggi? Il ragionamento non è sbagliato. Peccato che poi c'è un problema anche poi logistico, perché rimandare significa aumentare a dismisura il livello di stress e di ansia che abbiamo nella nostra vita. Perché poi, se io rimando, accumulo tutti gli impegni, tutte le cose che devo fare e questo mi mette in una oggettiva situazione di stress e di difficoltà. Citiamo un'altra zona erronea che scoprirete leggendo il libro. La potete approfondire. Il capitolo in cui Dyer ne parla si intitola Esplorare l'ignoto e parla proprio del bisogno spesso totale, direi, di sicurezza che abbiamo. Non si può crescere, dice Dyer, se si conoscono già le risposte ancora prima che le domande siano state poste. Aprirsi a nuove esperienze è fondamentale. Qui, in questo capitolo, Dyer cita Franklin, Beethoven, Leonardo da Vinci, Churchill e altri. Cioè uomini che si inoltrarono in spazi nuovi, su terreni tutt'altro che sicuri. Insomma, l'autore ci insegna in conclusione che è fondamentale metterci in discussione, uscire dalla nostra zona di conforto e sviluppare creatività e pensiero critico. Quest'ultimo punto scopritelo leggendo. Ogni pagina di questo bellissimo libro, Le vostre zone erronee, è intrisa di questi ragionamenti. Il bisogno di sicurezza che abbiamo ci porta a non vivere. Perché preferiamo la sicurezza alla vita. E' quello che ci insegna Sigmund Freud in uno dei suoi testi più celebri, il cui titolo è Il disagio della civiltà. Cioè noi barattiamo il piacere, la felicità, la creatività per la sicurezza. Ma quest'ultima non ci dà tante garanzie di sopravvivenza. Nel senso che se siamo sicuri ma non viviamo diventeremo degli ottimi automi, dei robot perfetti, ma non saremo esseri umani. Ecco, quindi Dyer ci insegna in ogni pagina, in ogni singola parola del suo libro che la sicurezza, che è collegata all'abitudine, se vogliamo anche alla routine, ha apparentemente dei lati positivi. Ma se andiamo a scavare spesso ci rende più fragili. Il bisogno di sicurezza è connesso poi al bisogno di controllo. Il geloso chi è? L'insicuro. Il geloso è l'insicuro che ha bisogno di controllare, perché non si fida non del partner, di se stesso. Proietta la sua insicurezza nel partner. E ultima cosa che aggiungo, mia, il bisogno di insicurezza è una fallacia esistenziale, non logica, perché logicamente ci sta come discorso, ma è una fallacia esistenziale perché non esiste il controllo totale. Noi non possiamo controllare, non possiamo controllare il partner, non possiamo controllare i movimenti che la nostra banca fa con i soldi che abbiamo nel nostro conto corrente, non possiamo controllare ciò che sta avvenendo nel mondo. Io ora sono qui a casa mia, certamente non posso controllare, sapere cosa sta avvenendo a Bangkok, in Peru, cosa sta succedendo nel piccolo paesino della Siberia o a Copenhagen. Io non lo so, non lo posso sapere. Quindi il controllo, la sicurezza, è in qualche modo un bisogno che noi abbiamo che però rivela appunto delle fragilità. Non va giudicato ma va preso per quello che è, una zona erronea. Secondo me l'autore non intende in senso giudicante le vostre zone erronee. Cioè non immagino Dyer a dire voi siete sbagliati, ecco le vostre zone erronee, voi siete sbagliati, è un errore, siete colpevoli. Non è inteso in questo senso il testo, sia il contenuto ma sia anche il titolo appunto. È un modo per far riflettere tutti, ciascuno di noi, per questo io l'avrei chiamato, questo sì, zone, le nostre zone erronee, non le vostre ma le nostre di tutti, o in alternativa appunto le zone erronee dell'umanità, forse ancora più incisivo. Ecco è un modo per dire guardate che se voi non raggiungete la felicità, se non state bene, se siete tristi e frustrati, è perché avete un legame troppo stringente con il passato, perché provate emozioni inutili, cioè provate il senso di colpa e l'inquietudine, perché procrastinate, rimandate, rinviate all'indomani quello che potreste fare nel momento presente, ossia vivete di inerzia, e questo vale anche nelle relazioni. Dovete chiudere una storia che non va? Rimandiamo. Dovete dire una cosa ad un amico? Rimandiamo. Dovete fare due chiacchiere pacifiche con il vostro collega per spiegargli che c'è un problema? Ma no, dai, non voglio turbare il rapporto, rapporto magari molto conflittuale, che si potrebbe risolvere con un vostro intervento, ma non lo facciamo, rimandiamo. E poi ci insegna appunto, quarto e ultimo punto, che finché siamo, diciamo, legati alla roccaforte della sicurezza, del controllo, non esploreremo mai l'ignoto. Ma la felicità viene proprio da questo, viene dall'esplorazione dell'ignoto, viaggiare, scoprire paesi, incontrare persone, leggere i libri, vedere un film, dormire. La vita è bellissima se la viviamo in quest'ottica, se esploriamo l'ignoto. E allora io vi auguro una buonissima lettura, un libro non molto lungo, sono 235 pagine circa. Wayne Dyer, le vostre zone erronee, guida all'indipendenza dello spirito. L'avete letto? Non l'avete letto? Pensate di leggerlo? Qua sotto i commenti, riflessioni, le vostre esperienze, cosa vi ha suscitato, cosa vi suscita. Scriveteci e confrontatevi anche tra di voi nei commenti. Chi non l'avesse fatto, lo invito a cliccare qua sotto, c'è un tasto rosso con scritto iscriviti, così potrete iscrivervi e rimanere aggiornati anche sugli altri video. Vi aspetto anche nelle altre riflessioni, negli altri video qui nel mio canale, nel mio spazio. Buona lettura e buon superamento delle vostre zone erronee.